Ci vuole spiegare OMS o non OMS? Qualcuno me lo vuole spiegare? Lisa, che cosa racconta Taiwan? Io credo che la cosa che stanno chiedendo tutti ormai da mesi è che venga fatta un'indagine, un'inchiesta internazionale libera e indipendente. Ora, io non so, il dottor Pani diceva giustamente dobbiamo occuparci di curare e di uscire da questa pandemia. Sono d'accordo, io credo che la domanda di capire che cosa è successo sia altrettanto importante, perché se non capiamo che cosa è successo potrà ricapitare domani. Ma questo veramente fuori da ogni schema, io non ho proprio idea, ma sicuramente è stato per colpa di un animale magari allevato, un animale da pelliccia allevato in qualche paese sperduto, però deve essere trovato. Il pangolino è l'unico che non c'entra proprio niente. Anche questa è stata un'altra storia, un'intera trasmissione per il pangolino. Diciamo, ci sono state tante stranezze in questa storia. E però la Cina tra le tante stranezze, mandami la fotografia che adesso andiamo in pubblicità gentilmente, questa fotografia non è di dieci anni fa, è di pochi giorni fa. Allora, la Cina oggi è così. Noi stiamo ipotizzando se forse si può riempire lo stadio a giugno per gli europei 25%. Questo è la Cina oggi. Professor Pani, rapidamente...